Invece, sapete che in questa settimana non c'è stato nessuno, nessuno che mi ha chiesto di fare il nome, nessun giornalista. Invece hanno dimostrato molto, molto interesse per questa parapornografia, insomma, i nostri racconti, si sono divertiti molto. Si cercano, oppure si cercano iscriviti nell'armadio di Asia Argento. Quindi, cosa decidiamo di fare? Ci buttate nel fuoco o ci aiutate? Grazie. Miriana? Lasciamo la parola a Giulia Blasi.